Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo sempre in compagnia di Luca e al capitolo decimo in una di quelle pagine insomma memorabili che basterebbe quella a sorreggere l'impalcatura del Vangelo stesso, ad escrivere Dio, ad escrivere l'umanità. Ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese maestro che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse che cosa sta scritto nella legge. Come leggi? Sono due cose interessanti. Uno che dà una risposta da manuale, riferiamoci alla legge, alla Torah, ok? Quindi domanda, domanda intellettuale diciamo, catechistica se vogliamo, risposta però risposta non scontata, non te lo dico, ti faccio fare un percorso. Che cosa dice la legge? Dimmelo tu, tira fuori, grande educatore Gesù, la maglieutica, tirare fuori dagli altri le risposte che già hanno dentro, a meno che non ci sia un inganno, e qui un pochino c'è. Costui rispose, anche lui da manuale, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso. E quindi Gesù dice, hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello volendo giustificarsi disse a Gesù, qui capiamo che c'è già qualcosa che non va, ogni volta che la fede è solo un parlar di Dio e fare delle grandi discussioni attorno a Dio, ma non prendere alla lettera quello che Gesù poi dice, hai risposto bene, fa questo e vivrai. Fa questo, va benissimo, c'è già scritto, lo sai già, fa questo. Ma lui non è intenzionato a fare, ma a fare dei discorsi attorno a Dio. E quindi, e allora Gesù si inventa una perla incredibile, no? Che poi si concluderà nello stesso modo. Allora, un uomo scendeva da Gerusalemme e Gerico, risposta a chi è il mio prossimo? Cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passo oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passo oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto vide e ne ebbe compassione. Ecco l'umanità, ecco l'eredità. Per ereditare la salvezza bisogna avere compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Altro che discussioni, ecco, gesti concreti, mani, schiene che si piegano. E il giorno seguente tiro fuori due denari, gli dì dall'albergatore, dicendo abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo ripagherò al mio ritorno. Chi di questi tre, ritorna la discussione, ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti. Quello rispose, chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse, va e anche tu fa così. Grande creatività, no? Gesù non nel, come dire, nell'uccidere il suo interlocutore, dicendo ma insomma se non vuoi farlo allora non vuoi conoscere veramente come ereditare la vita, ma raccontando una storia e riportandolo alla questione essenziale che la fede ha a che, sto dicendo una ripetizione, ha a che fare con il fare. Adesso mi sono imbambolato. la fede è fare. Fare. Fare è la volontà. Va e anche tu fa lo stesso. Non è attivismo, è la fede, attenzione. Non è fare solamente delle cose in nome di Dio, per Dio, grazie a Lui, per Lui, con Lui, insomma. No, no, però è fare. È fare. L'alternativa al fare, che poi significa amare, è vedere e passare oltre e passare oltre. E magari questo tale si voleva contentare di una diatriba, di una grande discussione attorno al concetto di Dio e l'eredità eterna e si trova con questa cosa qua, ecco. E ci troviamo ogni giorno, senza sensi di colpa, però con questo nodo, no? Che noi ascoltiamo il Vangelo e poi che cosa siamo invitati? Mica a pensarci tutto il giorno, ma a farlo, a farlo, a renderlo concreto, ecco. E quindi a renderci prossimi dei feriti che incontreremo questa giornata, pregando che qualcuno, quando siamo feriti noi, si faccia prossimo a noi stessi. Le cose belle della giornata di ieri? Beh, ieri è stata una giornata eccezionale, è un weekend molto molto bello, molto intenso, sono molto grato perché abbiamo fatto la festa della comunità, siamo entrati un pochino nella preghiera, nella celebrazione in questo tema, la chiesa che verrà, costruiamo il futuro insieme, poi abbiamo mangiato insieme, il pranzo della comunità, tanti giochi, tanti bimbi, tanti giovani, tanti adulti. Il pranzo della comunità, pur essendo un piccolo numero, ecco, 200 persone, è un simbolo che mi piace molto, ci sono gli anziani, i molto anziani, le famiglie, i bimbi, i giovani, gli adolescenti, è la comunità, è un simbolo della comunità, la comunità qui non c'è tutta, ognuno ha dei suoi ritmi di vita e poi questo, insomma, non entriamo in questa cosa qua. Ma quando si vive una giornata così, direi spontanea, di fraternità, si vive qualcosa di bello, ecco. E quindi sono giornate proprio che riempiono e appunto sono grato a tutte le persone che poi in questa giornata hanno messo proprio del tempo nel fare il Vangelo, cioè mettendo le proprie qualità, le proprie ore, a servizio di altri, dai cuochi, ai camerieri, agli animatori, insomma, a tutti quelli che hanno vissuto la festa, ma l'hanno vissuta anche, come dire, con la fatica di fare per gli altri la festa, ecco. Bene, a lei, buona giornata a tutti voi e buona settimana.